Istituto Bramante Genga, una scuola di grande tradizione in continua innovazione didattica e tecnologica. Bramante, istituto economico. Genga, istituto tecnologico. Istituto professionale con qualifica in operatore del legno e disegnatore progettista e web marketing. Sono iniziati gli Open Day per aiutarti a scegliere il percorso più adatto ai tuoi desideri e aspirazioni. Ti aspettiamo!